Vabbè, innanzitutto vi ringrazio per la presenza, nel senso che pensavo che sia personalmente che come società sia giusto fare un appendice di tutto quello che è stato fatto in questi tre mesi. Abbiamo fatto tante cose, diciamo come cronoprogramma volevo fare un appendice al mercato chiuso, però dato che abbiamo utilizzato questa settimana, dato che non giochiamo quindi mi volevo mettere a disposizione della stampa per qualsiasi tipo di domanda e fare il punto di tutto quello che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo sotto la mia gestione. Partiamo proprio dal mercato, è arrivata in una situazione comunque complicata, la storia ha fatto o disfatto e poi di nuovo ha creato un nuovo gruppo, mi chiedo se secondo lei questo è il gruppo che andrà fino alla fine o in cui ci sarà magari qualche innesto tanto alla difesa? Guarda, io ormai sono quasi tre mesi e mezzo che sono qua, quando sono arrivato ho trovato una situazione che poi è sotto gli occhi di tutti, nel senso che questa squadra era partita con un progetto tecnico, con un allenatore, un direttore, con ambizioni sbandierate all'inizio ma non solo dalla società ma anche da tutti gli addetti lavori, nel senso che si era costruito un gruppo di lavoro che ai detti più doveva essere destinato comunque a fare almeno un campionato di vertice. Quando sono arrivato praticamente io sono subentrato alla sesta partita, sono state fatte cinque partite a zero punti, il mercato era chiuso e abbiamo tracciato un primo bilancio dopo otto partite, nel senso che qualche giorno prima di Natale abbiamo deciso insieme alla società praticamente di cambiare totalmente il progetto tecnico, nel senso che con l'avvicendamento dell'allenatore di Cardini abbiamo deciso di puntare su un'altra allenatore che comunque avesse un'idea di calcio totalmente diversa, nel senso che al di là che dopo abbiamo cambiato quasi totalmente gli interpreti, abbiamo cambiato il modo di interpretazione sia della settimana che del modulo tattico, nel senso che siamo passati a giocare in una determinata maniera, per cui abbiamo dovuto fare delle scelte che sono anche convincenti al modo di giocare dell'allenatore. In linea generale ci dobbiamo aspettare tutto, nel senso che come ho detto più volte se c'è la possibilità di migliorare il valore complessivo della Rosa, senza dubbio prenderemo in considerazione qualsiasi tipo di opportunità che sia in qualsiasi tipo di ruolo, è evidente che in alcune porzioni di campo siamo ampiamente coperti, anzi forse abbiamo anche qualche sovrannumero, in altre siamo un po' deficitarie, però se c'è la possibilità comunque di mettere i giocatori importanti che ci possono dare una mano per questo scorso di stagione sicuramente la prenderemo in considerazione. In qualche genere è un campionato molto bene, è un campionato anomalo sotto tanti aspetti, nel senso che anche in questi ultimi risultati le squadre che sono dietro in classifica stanno facendo molto bene, stanno facendo punti e soprattutto si stanno rinforzando anche in termini di qualità della Rosa. Noi abbiamo iniziato un percorso da un po' di tempo a questa parte che è fatto di lavoro, dobbiamo cercare di concentrarci partita dopo partita, cercando di riuscire a capitalizzare il massimo in ogni domenica, in questo momento secondo me la Rosa ha qualità per riuscire a fare il risultato in ogni campo, dobbiamo cercare solamente di fare quanto prima dei risultati che ci permettono ovviamente di migliorare sensibilmente la nostra classifica, ma di aumentare anche quello che è l'autostima di un gruppo che non ci dimentichiamo a un'età media-complessiva molto giovane. Se non parla con il primo punto che si fa anche con la stampa, non è comunque complicato anche per l'intervista personale, se guarda al futuro vedi ancora un futuro qua a Sassoli? Sì, io quando sono arrivato qua non troppe persone mi avevano detto che avevo fatto la scelta giusta, a tre mesi dalla mia permanenza qua dico che ho fatto la scelta più giusta della mia carriera, nel senso che sono venuto in un posto bellissimo che è trasù da calcio, che c'è una grande appartenenza, che c'è tradizione, è vero che sono venuto in un momento particolare in termini di risultati e soprattutto in termini di vita generale, perché purtroppo quello che sta succedendo qua, in parte assolutamente più leggera rispetto al resto d'Italia, sta condizionando un po' tutto, perché non dimentichiamoci che noi, ma come tutto il resto d'Italia, nel senso giocare a porte chiuse è un qualcosa che comunque, almeno per quanto riguarda noi, ci condiziona particolarmente, nel senso che sappiamo quello che ci possono dare il seguito dei nostri tifosi, però per quello che riguarda il mio segmento qua di questi primi mesi, che sono tre, tre e mezzo, sono assolutamente soddisfatto, ho fatto una scelta più giusta che potessi fare e penso che qua ci siano tutte le condizioni logistiche, calcistiche e ambientali per poter costruire qualcosa che riporti questo club in quelle che sono le categorie che assolutamente merita, sia per tradizione, per passato, ma soprattutto per qualità e per cultura calcistica, che non scopro di certo io, insomma, questo è evidente, io l'ho potuto solamente constatare in questo mio periodo qua a Sassari. Penso pure che ad onor del vero ci sono in questo momento dei calciatori che per qualità e per fascia di età possono rappresentare anche una base su cui ripartire anche negli anni a venire per questo club. Diciamo che la società quando io sono arrivato è stata particolarmente chiara con me, nel senso che al di là del mercato che abbiamo fatto complessivamente nella quasi totalità, negli over, la società e il presidente sin dal principio e anche negli anni a ritroso ha deciso sempre di puntare sugli under, sui calciatori del posto, capitalizzarli e di questo, come ho detto quando sono arrivato, devo fare i complimenti a chi mi ha preceduto perché ci sono dei ragazzi del territorio che la società ha capitalizzato, che qualche anno che stanno giocando con continuità, che comunque possono e ci stanno dando una grandissima mano nell'immediato, ma possono rappresentare anche un valore futuro per questa società. Adesso senza citarne uno a dispetto di un altro, però sapete tutti che più o meno ci sono dei giocatori, qualche uno magari che ha sbocciato nell'ultimo periodo, che sono ragazzi di proprietà della società, del territorio di Sassari in maniera particolare, che possono darci molto, secondo me, anche per quello che può essere un futuro di questa società. C'è una fase di interrogazione che mi rimasto impressa di qualche settimana fa, una delle ultime in casa, che ha detto a fine stagione parlerò e farò salutare qualche terza. E' chiaro, mi ha detto a chi si riferiva, e poi se magari è proprio riferito a qualche anche giocatore che magari adesso non è più la Torres, che forse è un po' uscito presto dal progetto, ma non è uscito presto dalla roba. Guarda, su quelle che sono le situazioni dei giocatori che non sono più qua, io posso valutarli solo per quelli che sono stati il percorso che hanno fatto insieme a me, insieme a noi, nel senso che poi una volta che abbandonano il nostro club non posso far altro che augurargli il meglio, nel senso che quando le persone sono chiare e dirette e si valutano per quelli che è il proprio lavoro, non bisogna avere mai rancore. Io dico solamente che per giocare qua servono delle caratteristiche diverse rispetto ad altri club della medesima categoria, nel senso che questa è una squadra che attualmente gioca in Serie D, ma ha pressioni, ha senso di responsabilità che sono nettamente superiori rispetto alla categoria di appartenenza, per cui a quelle che è un aspetto tecnico importante serve una moralità, un aspetto caratteriale, un aspetto di furore agonistico e di temperamento che deve per forza di cosa essere superiore rispetto alla media. Su questo magari tanti giocatori che avevano delle qualità calcistiche sicuramente buone per giocare in questa categoria e l'avevano dimostrato anche negli anni precedenti, in altri club. Qua hanno fatto fatica perché qua le aspettative sono alte e il peso della maglia a volte genera aspetti negativi su determinati giocatori, per cui penso che determinati giocatori hanno fallito, ma non tanto dal punto calcistico quando da un punto di vista caratteriale e morale. Qual è l'aspetto più importante per Stalotti? La squadra, l'aspetto più importante è il lavoro, nel senso che dobbiamo lavorare, dobbiamo fare tutti necessariamente di più a partire dal sottoscritto, perché quello che abbiamo fatto fino adesso non è assolutamente abbastanza, non è in linea con quelli che erano e sono i programmi della società, e non sono assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative di tutti noi. Dobbiamo lavorare di più, dobbiamo anche in questo periodo di sosta, sia io che ovviamente in accordo con l'allenatore abbiamo deciso di dare un giorno in più di riposo ai ragazzi perché vogliamo che dal loro rientro di ieri fino al 30 giugno devono vivere in funzione di questo club, in funzione del proprio lavoro, perché per noi consolidare questa categoria ci potrebbe fare aprire in futuro idee e prospettive che possono essere conformi a quello che è il blasone di questo club. Sì, 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 sì. Sono stati una sua produzione o è stata una produzione tra tecnico e direttore sportivo, tecnico e società e direttore sportivo? Allora, sì, sì, come no? Sì, sì, come no? Sì, sì, come no? Sì, sì, assolutamente sì. Vuoi cliccare il numero? No, no, io ho la responsabilità della gestione di tutte le scelte di operazione di mercato e del sottoscritto. È evidente che in ogni buona famiglia le scelte vanno condivise, sia per quanto riguarda l'aspetto contrattuale che per quanto riguarda l'aspetto tecnico, nel senso che i giocatori devono essere contestualizzati, devono essere messi all'interno di un sistema di gioco, devono essere messi all'interno di un contesto, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista morale. Per andare nello specifico, qua abbiamo dovuto cominciare a fare mercato in una situazione di classifica che sapete tutti, una situazione logistica particolare, nel senso che... e soprattutto in un contesto in cui tu devi portare giocatori quando hai un punto, quando a Natale sei arrivato al giro con due punti, per cui dobbiamo essere convincenti nel far credere che questo percorso sia un percorso giusto, al di là di quello che poi sono i numeri della classifica. Per questo sono stati scelti giocatori che avevano una motivazione, una voglia di rivincita e un piacere di venire qua palese. Le faccio un esempio, il problema che noi abbiamo riscontrato è che noi abbiamo preso dei giocatori che, le faccio tanto per andare nello specifico, Melli, Oreglio, Lavinia e Battista venivano da una inattività fino a marzo. Erano giocatori che non hanno fatto ritiro, comunque si sono allenati a parte e venivano da un periodo di inattività. Giocatori che comunque lo scorso anno erano in C, giocando con continuità, anche su piazze importanti, però comunque tu li devi mettere dentro, li devi allineare atleticamente agli altri con la speranza che non hanno comunque infortuni e gli devi dare ritmo partita senza fare amichevoli. Poi è stato preso Frasca che comunque era un mese che non era fuori rosa all'Aprilia. Schiaroli e Ponzate comunque erano ai margini del progetto di Campodarsego. Comunque quando tu fai un mercato, il mercato è di riparazione, nel senso che devi andare a prendere il meglio di quello che ti offre il mercato. Da questo punto di Prosi, lo stesso Prosi, era un giocatore che io conosco bene perché ha fatto il girone H quando io ero nel Cerignola, è un ragazzo di grande qualità, che ha fatto molto bene nel Gravina, che quest'anno era a Lavello, però era comunque ai margini del progetto tecnico del Lavello. Comunque abbiamo dovuto mettere dentro i giocatori in periodi diversi e l'abbiamo dovuto fare allineare senza potergli far fare ritiro e senza fargli fare amichevoli, cioè Melli è arrivato dopo tre giorni e ha fatto 90 minuti. Aspetta, questo non è una scusante, nel senso che non deve essere una scusante, io so per primo non voglio alibi né per il sottoscritto né per quanto riguarda la squadra in generale, nel senso che noi abbiamo la fortuna e la possibilità di rappresentare questo club e lo dobbiamo fare nella maniera migliore possibile con la massima intensità. Però se devo valutare le difficoltà che può incontrare un allenatore è che comunque devi mettere dentro giocatori in periodi diversi, con allenamenti diversi, qualcuno che veniva anche da periodi di inattività e questo lo devi fare praticamente nella partita, la partita ti serve per arrivare in condizione. Secondo me per quello che è il percorso che abbiamo fatto con Graziani, noi, e questo non me ne voglia nessuno, abbiamo capitalizzato qualcosina in meno rispetto a quello che la squadra ha veramente prodotto, nel senso che se io penso che a Cassino abbiamo pareggiato al novantesimo, con l'Arzachena ci hanno pareggiato al novantesimo, a Giuliano abbiamo perso una partita che non al novantatresimo, al novantatresimo sul palo inattivo in cui penso che se dico che abbiamo, non dico dominato, però abbiamo gestito in maniera totale la partita. Domenica a Monterosi la squadra secondo me ha fatto la migliore prestazione da quando ci sono io qua, però a fine partita dicevo agli altri adesso andiamola a raccontare, capito? Nel senso che in questo momento quello che io chiedo alla squadra è di essere più pratici e meno belli, nel senso che in questo mancando poche partite, avendo bisogno in maniera necessaria di punti per tirarci fuori da questa situazione, a volte dobbiamo essere un pochettino più sporchi, no? Dico sempre è possibile che a noi non ci capita mai che vinciamo al novantesimo. Questo vuol dire anche che è un limite, no? Non possiamo pensare sempre che determinate cose possono nascere per caso, no? Se penso alla partita col Savoglia in casa, abbiamo preso due o tre pali, è vero che loro hanno sbagliato il rigore, però posso recriminare anche un rigore al novantatreesimo. Però penso che per il percorso che abbiamo fatto con Graziani, se dico che ci mancano due o tre punti non mi sembra che possa dire un'eresia, no? E alla fine il ruolino che stiamo tenendo in questo percorso è giusto, però non dobbiamo accontentarci, sappiamo che la zona a rischio è vicinissima, sappiamo anche che è un campionato atipico per tantissime situazioni, perché è quattro mesi che c'è questo benedetto mercato, perché ci sono delle squadre che magari sono dietro di noi ma hanno qualche partita in meno, qualcun'altra che ha da recuperare una serie in fine di partite, esiste un calendario che viene completamente sovvertito praticamente ogni settimana, perché tra rinvii, recuperi, date da destinarsi, rinvii certi, non ti dà manco la certezza di poter affrontare domenica dopo domenica una determinata partita, però questo è un problema nostro ma un problema di tutti, dobbiamo riuscire a convivere con quello che è la quotidianità, però dobbiamo avere la consapevolezza che da qua al 30 giugno dobbiamo vivere in funzione di un obiettivo che ci siamo prestabiliti e che per noi rappresenta un punto di partenza per un futuro che deve essere per forza di cose migliori per la società in primis perché è il valore unico, ma poi per tutti noi che siamo all'interno e che ci lavoriamo e che ripeto abbiamo la fortuna e dobbiamo avere l'orgoglio di farlo. Questo lo dico sempre sia per quanto riguarda la squadra visibile che è fatta di difensori, centrocampisti, attaccanti, portieri e tutto quanto, sia per quanto riguarda la squadra invisibile che magari molti di voi non conoscono perché non gli danno interesse, ma per me è un interesse prioritario all'interno della dinamica del club che può essere fatta dai magazzinieri, dal dottore, dal fisioterapista, da tutte persone che si mettono a disposizione nel quotidiano con la loro grandissima professionalità e che ci stanno dando una mano, ma devono anche loro avere lo stimolo e la forza che dobbiamo avere tutti quanti noi perché comunque sono una parte integrante all'interno del nostro progetto e contribuiscono anche loro a far sì che tutto vada in maniera migliore. In questo io sono assolutamente contento dell'operario di tutti quanti, anzi quando sono arrivato io sono stati inseriti anche un paio di figure che è il collaboratore dell'allenatore, Maurizio Macchioni e Simone Deliperi che sono ragazzi, persone che comunque ci stanno dando una grandissima mano, lo staff sanitario è di una professionalità e di una disponibilità unica, tutte le persone che lavorano qua, che io ho trovato comunque al di là della professionalità, ho riscontrato un senso di appartenenza che è nettamente superiore rispetto a tutti gli altri club dove sono stato in passato, questo sicuramente sì. Poi gli inizi si tireranno solamente alla fine, però per crescere fa autocritica continuamente, quindi io chiedo, il mercato probabilmente è stato a concludersi, in questi mesi qual è il ripianto più grande per il mercato e invece la soddisfazione più grande per il mercato? Ripianti non ne ho, perché chi non è venuto dico sempre non sa che vi siete persi, nel senso che i matrimoni si fanno sempre in due, sono qualche giocatori che hanno deciso legittimamente di non venire, vuoi per la situazione in classifica, vuoi per altre proposte, però non vivo di rimpianti, penso soprattutto al presente, a preservare l'equilibrio e lo spessore e il valore dei giocatori che abbiamo al nostro interno. Non vorrei citarne nessuno, nel senso che non penso che ancora ci siano delle partite e penso che il meglio debba ancora venire, per cui mi auguro che chi magari oggi ha avuto un rendimento sicuramente che può essere anche al di sotto di quello che è lo standard per cui è stato preso in quest'ultimo periodo, mi possa dare una mano sensibilmente più grande, mi auguro che possa essere veramente la sorpresa da qua alla fine. In linea generale posso dire una cosa, sono contento di tutti, nel senso che sono ragazzi che hanno deciso di sposare una causa e lo hanno fatto con grande motivazione, di questo sono contento, ma devo rimarcare che sono estremamente contento anche di quei giocatori che hanno fatto parte di questo progetto sin dall'inizio, che io ho ereditato e che comunque hanno sempre dimostrato attaccamento, partecipazione e rendimento importante, capito? Soprattutto nei più giovani, nei ragazzi che magari molto spesso sento che non sono nominati, ma sono ragazzi secondo me che quest'anno, ma anche negli anni passati, hanno dato un contributo importante alla causa di questo club, che mi auguro che possono darlo ancora in futuro o se non lo possono dare, mi auguro per loro che siano proiettati in club di categorie superiori, perché sono ragazzi secondo me di valore e stanno facendo qua un percorso giusto. Io, il più grande rimpianto mio e che poi è il rimpianto di questi ragazzi che sono arrivati adesso, perché chi c'era prima lo sa, ma chi è arrivato adesso? Tu arrivi adesso e dici la Torres è un tifo incredibile, però lo vedi su internet, quando tu entri la domenica allo stadio e cominci a guardare, vedi la curva è piena, è anche giusto che ti aiutano, ma è anche giusto che se le cose non vanno bene ti prendi qualche fischio, però alla fine questo è un gioco che vive di passione, di motivazione, capito? E quella spinta in più, cioè se noi andiamo a giocare, che ne so, dove abbiamo giocato domenica, se giochi a porta aperta chiuse, c'erano 15 tifosi della Torres fuori, capito? Che ti voglio dire, fuori dal campo, il presidente loro si stupiva, dice ma questi che fanno? No, questa è la normalità, capito? come non... però per noi avere magari specialmente le partite in casa è una spinta sicuramente importante, però purtroppo la situazione è questa, noi possiamo fare altrimenti, questo non deve essere neanche una scusante per noi, è evidente che se dovevamo fare qualche scontro diretto in casa, invece in 11 giocavamo in 12, quindi era un vantaggio sensibilmente diverso, questo sì, però dobbiamo prendere atto anche di quella che è la situazione in questo momento, è inutile che andiamo a recriminare, di certo è che se da qua a tre mesi, già la speranza di poter ripartire in condizioni normali, se arriva questo benedetto vaccino, se comunque le persone che ne so, io pure mi capita di vedere delle persone che lavorano qua, poi le rivedo, che ne so, in hotel, neanche le riconosco perché quando tu vedi con la maschera, inverno col cappello, gli vedi solo il taglio degli occhi, capito? Quindi tante volte mi dicono le persone, dici ma non mi saluti? Cioè non c'è neanche il piacere di dare una figura alle persone che incontri, magari per chi arriva qua da poco, non è che non c'hai riferimenti, fai fatica anche a conoscere le persone perché sta sempre distaccato, se vai al bar e prendi il caffè, lo devi prendere fuori, poi lo devi rientrare, non c'hai la possibilità comunque di vivere a pieno una cosa che è comunque una tutta passione, perché alla fine dopo quando incontri una persona ti cominci a raccontare tutte queste cose è anche il bello del lavoro che facciamo noi, ma soprattutto che fanno i giocatori, è il motivo che poi tanti hanno scelto di venire qua anziché andare da un'altra parte, perché comunque con la speranza di poter rivivere nella normalità, questo si. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.